Pac Fulvio Abbate Poc'anzi tornando a casa ho avuto, mentre stavo in ascensore, ho avuto la netta sensazione che la guerra civile in questo nostro paese si è già iniziata, si è in atto e ha luogo, è già iniziata nei social mi direte una guerra civile implica un popolo spezzato in due che si combatte, una parte e un'altra parte, è vero e in questo senso, mentre ero sempre lì in ascensore, mi sono tornate in mente le parole di Pierpaolo Pasolini che parlando di un pezzo di mondo, di questo paese, diceva c'è un paese pulito in un paese sporco, un paese onesto in un paese disonesto un paese intelligente in un paese idiota un paese colto in un paese ignorante un paese umanistico in un paese consumistico bene, ed è esattamente così e la guerra civile in atto che è già cominciata nei social si sta combattendo fra questi due mondi ovviamente noi non abbiamo dubbi sulla parte con cui combattere la parte nostra la parte che ci riguarda è il paese intelligente in un paese ottuso il paese che dice buongiorno rispondendo al paese che dice bacioni come ricordava un capolavoro di Racola a Milano un mondo dove buongiorno significhi veramente buongiorno solleviamo il fazzoletto dei partigiani di giustizia e libertà non staremo mai dalla parte degli ottusi non devo aggiungere altro Fulvio Abate PAC anche a nome di situazionismo e libertà potevo farla meno retorica ma mi sembra che queste mie parole valgano la pena ciao grazie a tutti